Prima le grida che si fanno sempre più alte, poi l'urlo e quella lama conficcata nel fianco. In pochi istanti la violenza che squarcia una giornata di vacanza, una violenza che vede ancora una volta una donna come bersaglio. È un ferragosto di sangue quello consumato in un appartamento di Arco, località di villeggiatura in Trentino. In carcere ora c'è un 36enne di Conegliano, in ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita, la compagna coetanea. Ricoverata in ospedale a Rovereto, operata nelle scorse ore, se la caverà. Salvatasi per essere riuscita a chiedere aiuto, allertando i carabinieri, nella serata di martedì. Erano arrivati da qualche giorno nell'appartamento preso in affitto per la vacanza. Probabilmente tensioni già in atto, tutto questo è al vaglio degli investigatori della procura di Rovereto, che sta cercando di approfondire la dinamica dell'aggressione e i motivi della lite. Sta di fatto che il diverbio quel giorno degenera, e il 36enne arriva a impugnare un coltello, ferendo la donna al fianco. Momenti terribili nei quali, pur sanguinante, la compagna riesce a scappare e chiedere aiuto, facendo allertare i militari dell'arma della stazione di Arco, che arrivano poco dopo bloccando l'uomo, mentre nella zona restano tutti sotto shock per la violenza. In una regione, il Trentino Alto Adige, già sconvolta dai femminicidi di Mara Fait, uccise il 28 luglio a Noriglio con un colpo di accetta in testa dal vicino di casa albanese, di Iris Setti, massacrata a pugni e sassate da un senzatetto nigeriano in un parco di Rovereto il 5 agosto, e di Selin Frey Mazzol, truccidata e coltellata dall'ex fidanzato turco sabato notte a Silandro. Una lunga, lunghissima scia di sangue che, almeno stavolta, nella tranquilla località di Arco, non ha visto l'esito peggiore.